Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 ci sono rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e la variante di Valico in entrambe le direzioni. Sulla Fipili un chilometro di coda per lavori tra Montopoli-Valdarno e Ponte d'Era Est in entrambe le direzioni. Fare inoltre attenzione per il vento forte tra Firenze e Pisa. In A11 l'area di servizio di Serravalle Sud in direzione Firenze è sprovvista di GPL. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori di manutenzione tra lo svincolo di Bargino e quello di Tavarnelle in direzione Siena. Sulla statale Trebis-Tiberina riduzione di carreggiata per lavori tra Verghereto e Canili. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!